Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un altro video recensione, sono sistemata nello stesso modo del video precedente ma avevo altri 5-7 minuti da dedicare prima di chiudere e andare a cena fuori e quindi ho deciso di recensirvi le mie creme che sto utilizzando nell'ultimo periodo, crema viso giorno e crema viso notte se non erro questa è la prima volta che utilizzo per la routine diurna e notturna la stessa linea e sto parlando di questa linea della Venus, la linea galatina reale sia in effetto giorno, in crema giorno che in crema notte e considerando la combo sul mio viso credo che questa linea che è comunque molto economica sia una buona linea, l'effetto è rimpolpante sul viso, idrata bene, non è troppo pesante neanche la crema notte per il periodo caldo che stiamo iniziando a vivere quindi come linea mi piace tantissimo allora questa è la linea e la crema giorno pura giovinezza alla galatina reale, protegge e nutre in profondità, combatte rughi e segni del tempo azioni, nutre in profondità, protegge, idrata e previene la disidratazione combatte la formazione di rughe e segni del tempo, mantiene la pelle elastica e intensamente morbida e vellutata la pelle è subito più vitale, liscia e setosa, è idratata e protetta per tutta la giornata e rinnovata luminosità e compattezza la crema da giorno pura giovinezza alla galatina reale fornisce alla pelle un apporto quotidiano di energia e nutrimento per garantire l'idratazione ottimale e protegge il viso da rughe e segni del tempo la galatina reale, ineguagliabilmente miscela di vitamine, oligoelementi e proteine è il segreto di longevità dell'ape regina che grazie a questo straordinario alimento vive 40 volte in più rispetto alle api operaie si applica sul viso e sul collo, perfettamente puliti, si assorbe rapidamente ed è perfetta come base trucco è verissimo, non scioglie il fondotinta, io di solito la sto utilizzando anche in combo con la crema viso con l'SPF 30 che sto utilizzando ora che non mi ricordo cos'è ok, è Nivea, mi sono girato un attimo per controllare alle mie spalle e mi piace come effetto non si combattono tra virgolette, anzi è veramente un'ultima combo di diurna quindi io utilizzo spesso lei, incombinato con la SPF e poi il fondotinta anche quello recensito, vi lascerò la recensione nelle schede e giù nell'info box e tutte e tre insieme comunque lasciano un effetto, lo potete vedere anche sul mio viso oggi sono truccata da stamattina alle 9, sono le 19 e 27, ho semplicemente rincipriato il tutto ho asciugato con una velina e rincipriato e questo è l'effetto, non sono unta, sono compatta, idratata, per niente disidratata, non occlusa e mi piace tantissimo, tutto grazie anche a lei che stavo leggendo è perfetta come base trucco, sì, me l'ho fermata qua di consistenza ricca, nutre intensivamente senza lasciare la pelle unta, quello che stavo dicendo è adatta per tutti i tipi di pelle, anche la più secca poi consigliano ovviamente di utilizzarla in combo con lei andiamo a leggere anche di questo le specifiche quindi questa è la crema notte, sempre della linea pura giovinezza ha la galatina reale nutre e ripara in profondità, contraste, riduce segni del tempo non voglio leggervi le stesse info, no, non sono uguali apporta nutrimento intensivo, rinforza le cellule epidermiche protegge dalla disidratazione amplifica durante la notte il naturale processo di riparazione della pelle e contrasta la formazione delle rughe restituisce elasticità, tono e compattezza per un viso giovane più a lungo il viso risplende di giovinezza tratti distesi, rughe attenuate, colorito, luminoso, pelle liscia, tonica visibilmente più bella la crema notte pura giovinezza la galatina reale è il nuovo e prezioso trattamento di giovinezza studiato per agire di notte la sua formula innovativa amplifica la capacità di autoriparazione della pelle che si intensifica proprio durante il riposo notturno la galatina abbiamo già letta si applica la sera a movimenti ideali che sfrutta il massimo beneficio in momento per il massimo beneficio riposo notturno amplificatore amplificare il naturale processo di riparazione della pelle stendere con un delicato massaggio sul viso e collo perfettamente puliti adatti ad ogni tipo di pelle ok sono ovviamente confezioni da 50 ml se non le spacco ovviamente sulla scrivania queste sono le due creme tappo rosa giorno tappo blu notte all'interno quella giorno è leggermente rosata ne faccio vedere un pochino quella notte è trasparente mettiamo sull'altra mano è molto più compatta queste sono le due creme la giorno e la notte la giorno è molto più leggera si assorbe molto più rapidamente non è pesantissima la notte è un pochino più compatta e lascia sulla pelle una sensazione un pochino più pesante ma è giusto così perché è un prodotto che va poi a agire per tutta la notte e aiuta a restituire alla pelle un'idratazione che ovviamente ti fa ritrovare poi il giorno dopo una pelle molto più compatta e molto più rilassata rispetto a non metterlo o comunque mettere una crema non specifica per la notte sono contenta di aver preso la combo giorno-notte di questa linea perché credo che insieme ovviamente le creme insieme in combo mi stanno piacendo tantissimo ma anche singolarmente sono due creme molto valide hanno un basso costo ma hanno un'altissima qualità quindi ve le consiglio ok, video recensione finisce qua se ti è stato utile ovviamente ti invito a mettere un pollice in su se non vuoi perdere nei prossimi video c'è sempre il tastino dell'iscrizione io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi, ciao ragazzi in gamba!